Scusate, ma per curiosità, che ci fate alla cabina dell'Enel? No, chiusco, faceva corrente. Padre, la cercavo perché sono disperata. Se questa disperazione a buona a buona, non la capisco. Padre, ho scoperto che la realtà è troppo impermanente. A me lo stai dicendo, vai da parrucchiere, scusa. Padre, io voglio un uomo, non riesco a trovarlo. Ma che so, dove lo trovi l'uomo a giorno d'oggi? Dove stanno gli uomini di una volta? Lo so che non ci stanno più, però in fondo io che cosa chiedo? Cerco l'uomo giusto per me, che mi porti sul palmo della mano, che mi tratti come una principessa, che condivida con me tutto, ma proprio tutto. Difficile, a giorno d'oggi siete troppo distratte, troppe tecnologie, troppe perdite di tempo. Dipende anche, per esempio, che lavoro fai? Lo stesso, all'Italia. Devi trovare un uomo che ti capisca al volo. Quello, non c'è alternativa. Deve essere così. Io vado e vengo. Grazie padre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.